Buongiorno, la situazione è questa. Positivo, tre dosi. Positivo, una dose. Positivo, una dose. Positivo, due dosi. Positivo, due dosi, due dosi. Posi. Positivo, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi. Positivo, due dosi, due dosi. Due dosi, due dosi, due dosi, positivo due dosi, due dosi, due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, tre dosi scusate, positivo due dosi, positivo due dosi, grazie a voi. Positivo 3 dosi, positivo 2 dosi, 2 dosi, scusate, questo positivo non vaccinato, positivo 2 dosi, positivo 2 dosi, poi positivo non vaccinato, positivo 2 dosi. e non faccio commenti dico solamente quello che bello grazie